Ciao, oggi andremo a fare un cannone con questa sfere magnetica. Per prima cosa, montiamo sei palline e facciamo un cerchietto. Dopo lo continuiamo così e facciamo cinque di queste cose. Ora ho fatto queste cinque cose, andiamo a fare così e anche un altro. E questo facciamo un attimo da parte. Dopo andiamo a prendere questo in mezzo agli altri pallini, così in mezzo. E dopo andiamo a girare una volta. Due volte Tre volte Quattro volte Cinque volte Sei volte Sette volte Otto volte Nove volte E dieci Dopo tenete Un attimo qui sei pallini E mettiamo Queste ruote Qui Una qui E una di là Dopo Dopo Mettiamo Questo Qui dietro E abbiamo fatto il nostro cannone Qui dietro Ok E